Davvero sorprendente, non crede? È falso. Pronto? Chi parla? Questo signore avrà restaurato qualunque quadro, non questo, questo lo l'ha restaurato. Valutazione. Non può essere rubata perché stava mai dal fine, quindi... È una strana coincidenza, non crede. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi il lotto 231. Che altro può dirmi sul suo conto? Questa coppia sarà stata rubata, cosa che io non so. Lei è qui? I sentimenti umani sono come le opere d'arte, si possono simulare. Perché evita sistematicamente di incontrarmi? Voi, quei giornalisti, due ladri di un frammento di un dipinto che vi è derubato. Ho su un certificato, imbecilo! Che è successo? Sono stato aggredito, insultato, offeso. Andate via! Claire! Non riesco qua. Criminal! Chi è veramente? In ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico.